Unito e figlio di abitanti di casa nativo, questo è un nuovo quartiere di squadite. Da due anni abbiamo il certificato di abitabilità, ma l'Enel ancora deve installare la cabina elettrica. Noi abbiamo soltanto la luce di cantiere, un kilowattore a miglia, significa che possiamo accendere soltanto il frigorifero e poi la luce, il minimo indispensabile. Manca la luce esterna, quella che ci deve fornire il comune, anzi gli altri servizi già il comune ci ne ha serviti. Siamo qui a protestare perché l'Enel non è possibile che per mettere una cabina ci vogliano più di due anni e il nostro disagio ormai è insopportabile, perché la luce sempre si stacca, rimaniamo sempre senza luce e gli elettrodomestici non li possiamo accendere perché non c'è abbastanza potenza, quindi noi protestiamo ad oltranza, vogliamo l'energia elettrica in tutte le case.